Sondato dove vai? Torna subito nell'aereo operativa. Sondato l'imbarcazione. Al sud della tua posizione c'è un'imbarcazione nemica. Sondato l'imbarcazione. 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 Trava ovest della tua posizione. Sì, sì, sì. Pagli! Pagli! Obnare un vatico tante! Obnare un vatico sniper! Attacare! Pagli! Obnare un obiettivo! Obnare un'altra! Obnare un obiettivo! Abbiamo appena perso l'obiettivo Charlie! Sì, sono due minuti. Mi sono vedo la città di un'altra città. Sì, sono stati. Un'altra città. Un'altra città. Grazie a tutti